E' più bella come la faccio vedere, è bella? Sì, sì, no, ma secondo l'accompagnamento come fai? Se ci sa digere qui. Sì, no, se va pure l'uomo. No, no, non sta bene. Sì, no, non sta bene. Sì, no, non sta bene. Sì, no, se va pure l'uomo. Sì, no, se va pure l'uomo. Sì, no, non sta bene. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti